Visto che vengono scelti in conformità alla volontà degli elettori, mi dici come vengono scelti i sindaci in conformità della volontà degli elettori? Sono i sindaci delle 21 città capoluogo, non so se le sai quali sono le città capoluogo di regione in Italia. Ma non è vero, ma dove c'è scritto? Non è vero, c'è scritto che viene eletto dal Consiglio regionale, non è vero? Non è neanche eletto la tua riforma? Non l'ho letta la riforma e sono le 21 città capoluogo. C'è scritto che viene eletto dal Consiglio regionale, non è vero? E' nella legge successiva o no? Però quindi non è nella riforma? Secondo me è nella riforma, possiamo verificare. Adesso verifichiamo durante la... Ma non è vero, ma non è vero, ma Dio mio, i promotori non si hanno neanche letto la riforma che hanno scritto. No, io l'ho letta, guarda, è molto... Viene eletto dal Consiglio regionale, leggila. I sindaci delle città capoluogo? Non mi pare, comunque verifichiamo. Non è vero, c'è scritto, no, c'è scritto i sindaci vengono eletto dal Consiglio regionale. Perfetto, vediamo se sono stati capoluogo o no, facciamo sto gioco. Andiamo in pubblicità e... No, non vengono scelti rispetto alla volontà degli elettori, vengono scelti con mandato politico del Consiglio regionale. Sì, vediamo un attimo. E quindi i sindaci non saranno rappresentanti della loro comunità. Guarda, così ti invito a leggere la prima volta, almeno la riforma che hai mandato. No, guarda, magari, forse è la prima volta, l'ho letta, credo, centinaia di volte. Però verifichiamo, Federica, non ti preoccupare. Allora l'età male. Allora...